Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In una giornata segnata dalla tristezza nel mondo dello spettacolo, si conferma la notizia della scomparsa di Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco. L'attrice, nata a Tunisi l'11 marzo 1933, si è spenta il 29 gennaio 2024, all'età di 90 anni. Milo, il cui contributo al cinema italiano è stato inestimabile, ha raggiunto la fama partecipando a pellicole memorabili quali Il generale della rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti, e il celebre 8 e mezzo, di Federico Fellini, film che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dell'Oscar. La sua collaborazione con Fellini, che affettuosamente la soprannominava Sandrocchia, la elevata musa ispiratrice del rinomato regista, posizionandola accanto a figure del calibro di Claudia Cardinale, nell'Olimpo delle attrici simbolo del cinema italiano degli anni 60. Sebbene le cause esatte del suo decesso non siano state rese note, fonti vicine alla famiglia suggeriscono che possano essere correlate alla sua età avanzata. Sandra Milo, oltre alla sua carriera cinematografica, si è distinta anche come conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante, mostrando un'ampia versatilità artistica. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel panorama artistico nazionale e internazionale. La Milo si è spenta nella sua abitazione, circondata dall'affetto dei suoi cari, conformemente ai suoi desideri. La famiglia ha espresso il proprio dolore, e la volontà di commemorare la vita e l'arte di un'icona che ha illuminato il mondo del cinema con il suo talento, e la sua inconfondibile presenza. Con la scomparsa di Sandra Milo, il cinema italiano perde una delle sue figure più emblematiche e amate, un'eredità artistica che continuerà a vivere attraverso le sue indimenticabili interpretazioni. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie